Buonasera, buonasera Buonasera e benvenuti, bentornati su TCS, Trecosa Smeralda, il magazine, primi due servizi dedicati al mare, alle spiagge e alle concessioni balneari, all'industria del turismo che ruota intorno a questo nostro tesoro naturale. Cominciamo dai balneari che abbiamo raccontato tutto quest'anno, cosa sarà successo, forse la svolta definitiva, vediamola. Le concessioni demaniali vanno al più presto rimesse a bando, niente proroghe o deroghe alle norme europee che pretendono per l'assegnazione procedure di selezione imparziali e trasparenti. Il principio ancora una volta è stato sancito da una sentenza di un tribunale, anzi due, pubblicate ieri. Il Consiglio di Stato in sostanza ancora una volta ha ribadito un concetto già espresso in più occasioni e dato torto agli imprenditori storici. Ora i comuni dovranno affrettarsi a porre mano alle concessioni. L'unico punto a favore del settore è quello che prevede l'equo indennizzo al concessionario uscente. Dopo anni di incertezze e di notizie contrastanti sulla questione, insomma, si è arrivati almeno ad un chiarimento univoco e inequivocabile. Per il Consiglio di Stato, che si è pronunciato per due casi, che riguardano i comuni di Lecce e Ginosa, le proroghe automatiche sono illegittime. Valgono solo per motivi tecnici e al massimo fino al 31 dicembre 2024. La questione della scarsità della risorsa alla quale si erano appigliati i concessionari, sperando che venuto o meno tale assunto si potesse derogare al principio del libero mercato, per il Consiglio di Stato è secondaria. Da Palazzo Spada, sede del massimo tribunale amministrativo, è arrivato il chiarimento. La disapplicazione delle proroghe sulle concessioni demaniali marittime si impone, a prescindere dall'esame della questione della scarsità delle risorse, che in ogni caso non risulta essere decisiva in quanto, anche ove si ritenesse che la risorsa non sia scarsa, le procedure selettive sarebbero comunque imposte dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. I giudici hanno quindi ribadito la necessità che i comuni bandiscano subito procedure di gara imparziali e trasparenti per l'assegnazione delle concessioni ormai scadute il 31 dicembre 2023. Il governo dal canto suo ha sempre rinviato ogni regolamentazione del settore, per il momento ha solo convocato un tavolo tecnico sulla base però della legge Draghi, l'unica che aveva posto una serie di principi per regolamentare il passaggio delle concessioni. Stante così le cose, per gli imprenditori della balneazione non c'è più via di fuga. Si spera solo che un decreto attuativo della norma che prevede gli indennizi riesca a soddisfare le loro richieste circa la valutazione corretta del valore dell'impresa in base al capitale investito in precedenza e all'avviamento. Ora quindi gli occhi sono tutti puntati su questa fase, la corretta normazione degli indennizi che il nuovo assegnatario dovrà versare al concessionario uscente. Utile, necessario e aggiungiamo anche sacro santo. L'isola dal nord a sud al centro blinda le sue spiagge, il numero chiuso, certo magari fa storcere un po' il naso però utile, necessario e sacro santo. C'è una domanda sacro santo e lecita. Il mare nostro e le spiagge nostre e più belle e cercate e ricercate e scelte possono accogliere ospitare le centinaia di turisti eppure residenti pronti a calpestarle, calpestarle in senso buono, quale strategia adottare e infine preservarle e salvaguardarle almeno in alcuni luoghi molto molto particolari. Diventa un imperativo categorico. E allora ecco che dal nord a sud della Sardegna le istituzioni dal regionale ai comuni cercano di trovare un denominatore comune, un giusto compromesso, ovvero il numero chiuso. Da San Teodoro, sempre molto attenta ai suoi tesori naturali, anche la scorsa stagione, in momenti particolarmente caldi, non solo dal punto di vista del meteo e del termometro, si è adottato questo provvedimento che divide. Ma non c'è solo l'immensità e la bellezza della e delle spiagge della Gallura. Ci sono, ci sono tanti altri meravigliosi angoli di blu e sabbia, sabbia e blu, sabbia finissima che in questa stagione, ormai cominciata, cercano di adottare lo stesso principio in nome della salvaguardia dell'ambiente. Alghero lo sa bene, come del resto stintino, stintino con l'accesso alla spiaggia della Pelosa, consentito a un massimo di 1.500 bagnanti. Stesso incipit per la Maddalena, Orosei, Baunei, Santa Teresa, Gallura, 1.015 all'Arena Bianca e Arzachena. E il Sud non si sottrae a questa soluzione. A Villa Simiù sono 450 gli ammessi a Porto San Ruggi e 700 a Punta Molentis. Teulada, invece, riserva l'ingresso a Tuaredda a 1.100 persone. Numero chiuso e biglietti. Qualcuno storcerà il naso. Ma è sempre così. Ricordate all'inizio la tassa di soggiorno, ma questa sembra. Anzi, è un'altra storia più aderente al clima change, a quelli che cercano di trovare la spiaggia giusta. E anche, oltre al cambiamento climatico, che c'entra, e c'entra pure il sempre maggior numero di visitatori che vogliono disperatamente la spiaggia, le spiagge, le nostre. Insomma, se per il biglietto d'ingresso per Maribintà o bisognerà attendere il prossimo anno, il 2025, con tanto di riflessione e analisi da parte dell'amministrazione comunale di Quartu Sant'Elena. Insomma, sarà un'estate. La 2024 molto, molto particolare. Con uno sguardo rivolto ai numeri, alle presenze e l'altro all'ambiente. Aggiungiamo noi, finalmente, già il mare e il blu da salvare, come del resto della spiaggia. E tutto il suo mini-mondo, con buona pace, dei turisti e degli stessi residenti. Turisti e residenti, residenti in strada delle vacanze, la Sassari Olbia, la Sassari Alghero, sempre con dei cantieri. Stop ai disagi? Proviamo a togliere l'interrogativo. Intoppi, deviazioni e rallentamenti, insieme a caldo, mezzi pesanti e lavori, a macchia di leopardo, mettono a dura prova la pazienza degli automobilisti che percorrono nell'isola la strada statale 131. Ma a ridosso della stagione estiva sono le strade delle vacanze, la Sassari Olbia e la Sassari Alghero in particolare, a rappresentare l'incognità maggiore per i tanti turisti che tra giugno e settembre circolano su queste due importanti arterie. I cantieri aperti, infatti, non facilitano la viabilità e spesso ne compromettono anche la sicurezza. Il nord Sardegna si prepara adesso alla stagione turistica, ma ci sono delle importanti novità anche su quelle che vengono considerate, insomma, le strade delle vacanze. Certo, direi che siamo già pronti perché i lavori della circolazione di Alghero stanno andando avanti in maniera molto spedita. La Alghero Sassari verrà cantierata entro giugno, quindi un annetto di lavoro dovrebbe consentirci di avere un collegamento più sicuro e più veloce. E anche la Sassari Olbia è a buon punto, quindi con l'ultimo lotto, secondo me, si vedrà la fine di questa grandissima opera. Gli mancabili lavori in corso accompagnano ogni anno l'esodo degli italiani verso le mete delle vacanze, ma almeno nel nord Sardegna i disagi presto diventeranno un lontano ricordo. Si tratta della provincia più grande d'Italia. Abbiamo 2.400 km di strada e quindi abbiamo la necessità di accogliere nel modo migliore i turisti che arrivano. Su 3 aeroporti e 3 porti, due insistono nella provincia di Sassari, perché Olbia, il porto, Olbia, aeroporto, Alghero, aeroporto, Porto Torres, il porto, quindi abbiamo la necessità di collegare al meglio tutte queste vie di accoglienza. L'importanza degli eventi per promuovere e valorizzare la Sardegna lo sa bene il Consorzio Due Giare con 36 iniziative. 36 appuntamenti in un unico e ricchissimo calendario è l'essenza degli eventi presentati dal Consorzio Turistico Le Due Giare nella sede istituzionale a Baressa. Progetto strutturato con la condivisione di 13 comuni della Marmiglia che adiriscono al sodalizio consorziale. Riproviamo a fare quello che abbiamo iniziato l'anno scorso e cioè presentare in un unico foglio, in un'unica brochure, in un unico libretto, quelle che sono gli eventi, le attività che i diversi 13 comuni del Consorzio fanno tutti gli anni, realizzano tutti gli anni, al fine di dargli visibilità, perché poi questo è l'aspetto più importante. Se noi non riusciamo a comunicare, e una della mission principale del Consorzio è proprio quello di comunicare il patrimonio del Consorzio, dei paesi del Consorzio. E in questo caso stiamo parlando di un patrimonio culturale, di azioni, di attività religiose, di feste, di qualsiasi tipo di attività che i comuni fanno. E per comunicarle chiaramente c'è bisogno forse anche di tempo. All'interno del calendario hanno trovato collocazione, feste religiose, sagre ed eventi enogastronomici, iniziative ambientali, festival, rassegne sia appuntamenti letterari e culturali momenti di aggregazione e socializzazione. Nel calendario è presente anche un QR code che rimanda al sito del Consorzio, dove evento dopo evento saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti, programmi dettagliati ed anche eventuali cambi di data. E il calendario unico degli eventi è un libretto che quest'anno abbiamo reso in un formato tascabile, che quindi probabilmente è anche più gestibile, che richiama tutte le date degli eventi che normalmente vengono fatti nei comuni e che sono fissati. Quindi da qui a dicembre noi sappiamo che cosa si farà a Baradili, che cosa si farà a Senis, che cosa si farà da solo, che cosa si farà in genere nei 13 comuni. 36 eventi che testimoniano ancora una volta la vitalità di un territorio. Uno dei risultati più importanti ottenuti dal Consorzio è stato proprio quello di aver mobilitato le comunità. Credo che uno dei risultati ottenuti dal Consorzio, dai consorzi in generale, sia proprio quello di aver mobilitato le comunità, cioè di averle rese consapevoli che c'è una possibilità di valorizzazione dei loro aspetti più belli, più caratteristici, più importanti, organizzandosi da soli, perché questo è importantissimo. Coinvolgere le comunità oggi è il risultato più grande che il Consorzio credo abbia raggiunto. E in questo il calendario unico dimostra appunto che da questi 36 eventi vuol dire che c'è una grande vitalità e una grande vitalità nei nostri territori. Avanti tutta quindi per la seconda scomessa che, visto il grande successo della prima, i predupposti per far bene ci sono tutti. E le parole fanno cose, anche il teatro, soprattutto quando accende luce, i riflettori, attenzioni su temi importanti come la sostenibilità economica, sociale, ambientale, a Tempio, questo e altro. La sostenibilità economica, sociale e ambientale passa per Tempio attraverso un festival a tema che sensibilizza sulla cultura civica e sull'importanza di prendere parte al cambiamento. Un'occasione per l'ottavo anno consecutivo che si realizza negli spazi del CEDAP di cura Dureddu, il centro di educazione e documentazione ambientale e paesagistica dell'Imbara che ha coinvolto le scuole cittadine. Due le mostre allestite. La prima, Archeoplastica e lo stile incorruttibile, accoglie una selezione del Museo degli Antichi Rifiuti del progetto Archeoplastica e combina materiale plastico, forme estetiche e tempo per affrontare il problema della durabilità insidiosa degli oggetti. La seconda esposizione invece ci riguarda il tema dell'inquinamento. Plastic Free, Chuck si gira a mostra documentaria per sensibilizzare i giovani in modo diretto ed interattivo e per guidarli alla conoscenza dei materiali inquinanti e al rispetto del territorio e dell'ambiente con buone pratiche nella vita quotidiana. Il CEAS Tempio, il Centro per l'educazione ambientale di Tempio e il Museo Organica, ai piedi dell'Imbara, partecipano all'altra edizione del Festival per lo sviluppo sostenibile, che è un festival italiano che si occupa di ecologia e ambiente. Diverse le iniziative previste per questo mese di maggio, mostre, laboratori e rassegne di film. Fino al 22 maggio, inoltre lo spazio CEDAP, accoglie anche la rassegna di corti Green Watch, Green Talk, dedicata al tema delle plastiche e al suo uso smodato nel mondo contemporaneo. Un problema ambientale globale che riguarda comportamenti e azioni sociali, collettive e individuali, che nuoce all'ambiente, alla natura e alla salute degli uomini e degli animali. I corti presentati infatti offrono punti di vista differenti e spunti di riflessione sull'impatto ambientale e sulle strategie per contenere il problema di non facile risoluzione. Tanti gli eventi in programma, dalla mattinata ecologica per la pulizia dell'ambiente urbano ai laboratori tematici per apprendere tecniche e trucchi così da trasformare gli imballaggi di plastica in splendidi giocattoli. Questo è un progetto che si inserisce nei percorsi delle competenze trasversali e orientamento organizzato da liceo e lettori di Tempio Pausania. Ha visto impiegati gli studenti della terza classico qua al Museo di Organica nel Parco dell'Imbara. Le attività si sono svolte da marzo a maggio. Oggi la conclusione con l'inaugurazione della mostra ha visto impiegati delle lezioni frontali con degli specialisti, degli esperti legati per esempio alla comunicazione o addirittura alla divulgazione di archeoplastica del progetto legato appunto alla mostra che abbiamo presentato oggi fino all'allestimento. Quindi ha visto il nascere di una mostra attraverso le fasi iniziali fino alla sua conclusione. I ragazzi hanno partecipato attivamente e hanno impiegato sia orari curriculari che stracurriculari. Penso che il bilancio sia positivo perché si sono impegnati e interessati. Bene, io termino qua vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine. Per chi non c'era c'è il sito tcs.tv o la pagina YouTube che ospita tutto il mondo del magazine e della nostra televisione. Grazie.